Con il candidato sindaco Marcello Monaco, 120 secondi, due minuti per rivolgere un appello alla città e gli elettori, perché votarla? Beh, innanzitutto perché sono una CSDoc, diciamo così, poi perché effettivamente sono un imprenditore, il mio lavoro è quello di risolvere problemi, quindi quando la mia città ha dato a tutti quanti noi, a chi più, chi meno, una vita dignitosa e adesso chiede aiuto, io non gli giro assolutamente le spalle. Votare Marcello Monaco significa votare una persona libera da ogni vincolo politico, fuori dalle segreterie politiche, perché ho capito in questi cinque anni di esperienza politica che le segreterie hanno fatto il loro tempo. Questo cosa significa? Che le segreterie politiche valutano le persone non per la professionalità e la capacità, ma bensì per il consenso elettorale che hanno dietro le spalle. Ecco perché è la mia scelta di uscire fuori dalle segreterie politiche, perché fondamentalmente noi abbiamo bisogno di una squadra di governo che sia capace, professionalmente preparata e che sappia dare i risultati. Questo lo possiamo fare solo e in questo modo esclusivo.